Ripudiare qualsiasi deriva grillista, grillina, che siccome la politica fa schifo, siccome ci sono i costi allora aboliamo la democrazia così come aboliamo i sindacati e tutto. Questa qui secondo me è la battaglia che i comunisti devono portare avanti perché non esiste da nessuna parte che per tagliare, cioè che si porta da 41 a 31 consiglieri per tagliare i costi. C'è una cosa che ha un impatto irrisorio all'interno del bilancio della città. Prego. Grazie. Quanti interventi? Ciao Agai, Giovanni. I bilatori volete parlare? Non vuoi intervenire? Sì. No, no, non credo a una cosa. No, se volete integrare. No, ma come seminatori, no, ma credo che sia... Quello che però non ho capito come avviene è la mancata dei rappresentanti. Cioè, lei con uno di per sé ce rappresenta di più o meno, no? Cioè, non capisco il messo fra la deduzione dei consiglieri che... no, 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 no. Noi da sempre diciamo che probabilmente sono in equilibri per fortolato, che è in provincia, insomma, è un discorso adottivo per attrodurire di fatti. Adesso c'è questa via che se lui per non viene, mi sembra che quasi questa sia una penalizzazione per chi. Capisco il discorso, se nella città metropolitana avevo 자�reo e la città metropolitana nel voto no. O da solo Milano. No, o da solo Milano per colte. Una parte, mezzo per lottare. e il passaggio di un attimo quando può essere fatto, come dire, in questo passaggio dove tutti concorrono per le rappresentazioni. Chiudo. L'altra parte è che c'è un problema culturale all'interno della sinistra, perché se non riusciamo a passare un messaggio, un problema culturale, perché non riusciamo a passare un messaggio, e non da oggi, da tempo. Ci sono, come dire, le difficoltà all'interno del sindacato a farci capire. Cioè, il mondo è cambiato. Noi, cosa possiamo proporre ai giovani per attrarli in un progetto? Qui a parte dell'evento, no, fra l'altro delle proposte. E' qualcosa di legibile, concreto, che possa, in qualche maniera, far sognare i giovani quando partecipare a queste cose. e siamo vecchi, che parlo per me, voi siete giovanissimi, essendo vecchi o perché non ho strumenti adatti per poter capire i giovani e interessare a un discorso nostro. Questo è il più bravo. Questo è quello che è, la mia opinione, ovviamente, che non è una verità. Però questo, secondo me, è lo sfondo che bisogna fare interno di tutti i giovani. Certo. Assolutamente. Perché se noi ci paghiamo solo addosso, e io sono d'accordo con lui, è inutile che non andiamo a dire cosa non ha fatto più capire. perché se c'è un altro, poi c'è un mezzo, nel dubbio. Ci sono cose da difficoltà con questa giunta, non c'è tutto. Dobbiamo farli presente, perché siamo lì apposta. Ma cosa c'è di mezzo? Che cosa dobbiamo aspettarci domani? Torniamo in trincea. 45 anni, siamo in trincea. 45 è quello che riguarda me, riguarda te. E un giorno è pronti via, ragazzo, questa è la trincea, sei a contatto. Eh no. Il ragazzo ha bisogno di prospettive, di sognare, di poter costruire qualcosa, di essere presente in questa società con le loro istanze. E noi dobbiamo sapere una cosa. 5 Stelle ci ha portato via uno stacco di spazio di queste cose. E noi andiamo a pensare cosa? Dove sei? Una minchia tecnica. Perché non riusciamo a parlare più con la gente. Non riusciamo a capire. E voi sono andate velocissime. E noi siamo mai più fermi. Prego. Grazie. Io non volevo dire... Voi parlare su due argomenti. Uno è una proposta ed è legata sempre agli scali ferroviari. Noi sugli scali ferroviari ancora nel periodo Moratti avevamo avuto come università, io lavoro nel Politecnico, una sorta di piccolissimo... Emilia. Emilia. Abbiamo fatto insieme a tutti gli altri un gruppo. A questo gruppo avevano partecipato dei comitati di quartiere, dei consiglieri, avevano partecipato diversi studenti e la nostra proposta che poi entra in questo libro pubblicato sul lavoro dell'università era completamente diversa dagli altri. Tanto diversa che quando il preside della facoltà in giro con Massaroli per far vedere le varie esposizioni è arrivato nel nostro gruppo e ha detto ma questo non interessa. No, no, un attimo. Vediamo un attimo se interessa. Allora la nostra idea era che gli scali ferroviari dovessero essere un'arma fortissima per dare un bilanciamento ma anche quantitativo a favore di una riqualificazione ambientale della città. Ora col COP21 di Parigi questo obiettivo, questo di costruire un'idea su come utilizzare queste zone della città che sono, è vero a cerniera della città metropolitana, è vero anche per certi scali come quello Farini, eccetera, nel cuore della città. Allora una proposta che noi facevamo era che soltanto se tu sei vicino alle reti fognari produci biogas e quindi far partire su queste aree anche una progettazione di aziende, iniziative produttive che però avessero questo chiaro obiettivo. Allora io dico questo lavoro che è stato fatto e che non è possibile che noi magari in un ambito lo ritiriamo fuori, lo studiamo insieme, lo rilanciamo, punto di domanda. Allora questo qua è la mia proposta perché lì c'è tanto materiale dato anche dalla raccolta di tutti i dati sull'inquinamento dell'aria, dell'acqua, eccetera, eccetera. Allora questa è una. La seconda cosa invece è più ardita e la dico qua per la prima volta. Allora questa sera, questo pomeriggio, io ho sentito dalle proposte di lotta che condivido però ho sentito anche parlare di progetti veri e propri, non so, quelli che citavi tu per esempio, oppure un'idea che avevamo insieme agli scali ferroviari che era quella che era indispensabile ormai sulla linea della tangenziale creare una circonvallazione leggera di coordinamento. Questa e molte altre sono proprio dei progetti, dei progetti che delle città in realtà nel mondo dove hanno un governo, ma neanche rivoluzionario, però intelligente, lanciano e sostengono economicamente. Allora la nostra storia, la nostra storia intesa come nostra storia alle spalle, è piena di persone che dicevano le cose giuste nel momento giusto e sono state spazzate via ed è sempre avanzato invece un'altra situazione come quella delle aree dell'expo che citavi, no? Cioè c'è una forte rappresentante finanziaria che prevale su una cosa molto più intelligente, che interessa i cittadini, che farebbe anche la ricchezza della città ma questa cosa non ha un soggetto finanziario forte alle spalle e quindi non lascia traccia. Allora, anche citando l'ultimo intervento, che cosa coinvolge i giovani? Cronfondi, perché noi non riusciamo su certi progetti, progetti proprio di sviluppo della città, tenendo presente che le banche sono veramente troione e rubano i soldi a tutti? Non è che noi per caso uniamo alla nostra proposta di lotta anche questa capacità di costituire un potere finanziario in un momento in cui la società è divisa tra pochissimi ricchi e tantissimi poveri e quindi questi progetti noi non li lanciamo come momento di lotta, ma cerchiamo di costituirci come un centro finanziario non ladrone e questo è un'altra difficoltà, che sappia reggere economicamente la realizzazione dei nostri interventi dei interventi che noi andiamo a pensare. Come intanto la goccia, diciamo che per sopravvivere abbiamo utilizzato anche il crowdfunding, perché servono questi tipi di autofidenzamenti. No, ma io dico proprio, compriamoci di scali ferroviari, non so. Non si può fare. Secondo me si può fare. E dopo poi lasciarci un recabito telefonico possiamo poi avviare un discorso. Perché si tratta di rafforzare, cioè veramente, innanzitutto la distribuzione, la raccolta di denaro che però vuol dire anche delle azioni con cui magari garantiamo un'economia. Federico Giovanni. Poi chiunque? Buonasera. Noi sempre per l'intervento sui giovani, sono Federico dello sportello lavoro qua a Scitilla, ci ha dato la possibilità di aprire questo spazio appunto per dare il maggior numero possibile di informazioni e di supporto di assistenza ai giovani che ormai stanno arrivando anche i 40 anni di età. Per il fatto di poter affrontare in questa città, che chiaramente rispetto al panorama italiano dà molte opportunità, ma sta diventando sempre più difficile a livello di dignità e di accessibilità a un rapporto di lavoro stabile e garantito. Sono usciti i dati del 2015 dell'Osservatorio del Precariato tramite le comunicazioni obbligatorie che sono delle dichiarazioni che si fanno al centro per l'impiego della città metropolitana in merito all'utilizzo dei contratti del Giobact a tutte le crescenti. Milano, a differenza di moltissimi altri territori in Italia, l'ha adoperato molto poco. Quindi questo cosa vuol dire? Che la risposta è il bisogno che hanno le pietà metropolitane di quest'area che si interrelaziona, basta pensare al numero di pezzolari che tutt'oggi entrano per esempio qua da noi nella zona 9. Il discorso appunto del Giobact e di tutte le crescenti non ha inciso sulla possibilità appunto di dare accesso di lavoro ai giovani o a chi deve rientrare nel mercato del lavoro. Questo cosa vuol dire? Che noi come attori sociali e militanti cittadini non possiamo lasciare in mano esclusivamente al privato il discorso di supportare appunto chi ha la necessità di cercare di trovare o migliorare la propria condizione lavorativa all'Agenzia per il lavoro privato ma andrebbero appunto portati avanti i discorsi oltre al reddito di cittadinanza di supporto attivo di potenziamento perché una volta funzionavano anche meglio sia in città metropolitana che appunto ha assumito i tagli rispetto agli sportelli che nel comune di Milano con il centro di mediazione lavoro del pubblico per dare un aiuto come succede poi in altre città o aree territoriali italiane del pubblico che dia una mano a giovani, alla persona disoccupata nel processo di supporto. Noi lo facciamo come volontari, come persone che hanno delle competenze tecniche, le mettono a disposizione della cittadinanza, dei compagni simpatizzati, chiunque si rivolga a noi. Però è chiaro che soppuriamo a una mancanza che sarebbe necessaria appunto di un intervento pubblico. Io sono molto appunto, come operatore dello sportello, rimasto scottato al di là della persona che è molto opinabile, Cristina Tagliani, l'assessore al lavoro del comune di Milano, per il fatto che appunto, come diceva correttamente prima Anita, abbia concentrato tutte le attività di questo assessorato, una città come Milano importante del lavoro, sul discorso della temporalità, sul discorso delle start up, sul discorso non del rapporto di lavoro dipendente. Quindi è una classe, cioè comunque a Milano ci sono, oltre appunto sul discorso della città metropolitana, ci sono, insistono, almeno un milione e mezzo di persone che hanno un rapporto di lavoro dipendente, che si relazionano su delle dinamiche, come per esempio questa l'introduzione Geobat, che non hanno modificato l'elevato tasso di precarietà. Si entra e si esce con i lavori di somministrazione interinale, hanno eliminato le collaborazioni a progetto, adesso il contratto più richiesto per i giovani è lo stage, cioè siamo tornati indietro rispetto al popolo del partito IVA del 10% del 1998, cioè incredibile, adesso sono usciti, è stato rifinanziato da parte della Regione le borse di finanziamenti per fare la dote unica lavoro, che sono per i disoccupati sopra i 3 mesi, 6 mesi, 12 mesi, ci sono più stagioni. Praticamente si sono attivati questi istituti privati per andare a caccia delle persone appunto con il maggior numero di disoccupazioni, perché sono più premianti che hanno dei vantaggi per cercare di attivare degli stage e dei tirocini che hanno, se va bene, 300-400 euro di limbozzo. Quindi c'è dal contratto a progetto e noi stiamo tornando indietro velocemente per non parlare del discorso dei voucher che sono esplosi, soprattutto nei contesti meno urbanizzati, però hanno un utilizzo incredibile. Un altro discorso avrà fatto anche per il mancato rinnovo appunto dei lavoratori precari che ci sono stati, come diceva la prima Anita del Comune, e le esternalizzazioni dei servizi comunali. Noi abbiamo qua dei compagni che lavorano per i servizi di apertura serale delle biblioteche e vengono pagati dalle cooperative 5 euro all'ora. Se la biblioteca chiude per l'istrutturazione o per le vacanze, la pausa natalizia, non vengono pagati perché sono intermittenti. Un'ultimissima cosa che volevo dire, come simpatizzante e militante sia del Comitato che ha fatto la voce, il discorso dei subvengatori dell'urbanità, noi come zona bovisa abbiamo fatto partire un piccolo progetto di orti collettivi. Praticamente con il discorso della partecipazione cosa è successo in questi cinque anni di giunta? Che gruppi di persone hanno fatto massa e per esempio è nato questa deliberazione giardini e cordilisi. Sono piccole cose però sono paradigmatiche e esemplificative di come si relaziona poi la collettività con le istituzioni. Quindi i gruppi di cittadini fanno pressione e riescono a ottenere questa deliberazione giardini e cordilisi che esisteva già in tantissime città d'Italia. Poi queste delibere vanno applicate sul territorio da parte dei costi di zona perché la competenza del verde è già nelle possibili zone. I tecnici mettono un sacco di paletti, un sacco di freno all'attuazione di una cosa che è partita dal basso. La parte dei cittadini è stata riconosciuta dall'istituzione pubblica attraverso una delibera e poi non si è affattuale perché a dire anche dagli esponenti della maggioranza, cioè dalla parte del PD alla parte più moderata, il discorso che il tecnico poi in questi cinque anni ha fatto molto da freno rispetto a tutte le piccole, magari positive le novità introdotte da questi cinque anni di giunta Pisa Pia. Grazie. Insieme a Senzatetto e altri iniziali per il diritto alla casa della zona di guarda, questo spazio di palazzina di 6.000 metri quadrati, di 7 piani, è stata quasi completamente al suo interno ristrutturata per ospitare decine e decine di nuclei familiari che hanno richiesto una casa popolare principalmente a Milano ma anche nel comune di Sesto e Ciluseppe. Questo è a Sesto nella zona praticamente dove sorgerà la sede regionale dei sindacati, non so se siete presenti a Sesto Marelli con la dietro via 24 maggio. Lì intorno tra l'altro ci sono decine di altri stabili dismessi in quelle condizioni, abbandonati, preda di incursioni notturne, furti di rame, pezzi di impianti, ecc. Questi ragazzi hanno fatto un lavoro che per la collettività non è costato nulla, hanno avviato un progetto che hanno anche presentato al Ministero delle Infrastrutture, cioè hanno studiato proprio un progetto che serve sostanzialmente a recuperare palazzi e rimettere a disposizione della collettività per progetti che non sono solo progetti abitativi ma anche di condivisione di spazi per nuove attività lavorative, per mercati equi solidari, ecc. E altre iniziative, corsi, aggregazione sociale e così via. Tant'è vero che in quella struttura si hanno trovato posti decine di famiglie, molte delle quali hanno anche in questi mesi ottenuto l'assegnazione di un alloggio popolare, perché 20.30, ma sono stati portati avanti anche decine di iniziative sociali là dentro che hanno avuto un riscontro importante. Giovedì questo sera alle 20.30 ci sarà una cena appunto il dia 24 maggio al numero 6, volta a raccogliere 200 sacchi a pelo per i senza petto. Il costo della cena sarà portare un sacco a pelo. Siamo tutti invitati, insomma, organizziamo in special modo Anita, invitiamo se si lascia trovare un po' di tempo, oltre a seguire tante altre cose, anche a fare questo. Io poi come partito saremo mercoledì a incontrare questa realtà per un incontro specifico sulla problematica dello sgombero, perché c'è uno sgombero in corso, cioè è stato richiesto dalla prefettura, la proprietà sta facendo pressione, perché venga sbonderata questa realtà. E purtroppo una parte non positiva, nel modo di vedere, insomma, l'abbiamo anche scritto nell'ultimo comunicato che abbiamo fatto, svolta dall'assessorato alla sicurezza Granelli, che ha prospettato questo tipo di soluzione alle famiglie che ci sono lì. Attualmente ci sono ancora oltre 150 persone ospitate, e l'accoglienza, la prima accoglienza, in centri come via Dio, via Mandretti, dove ci sono i senza tetto, dove ci sono i propri, cioè famiglie che sono state sistemate lì in monolocali, in bilocali, perfettamente abitabili, recuperati dagli spazi che c'erano dentro questa palazzina che erano gli uffici dell'Avitaria, verrebbero sbattute in un centro di prima accoglienza. 57 minori attualmente ci sono in questo edificio, che vanno regolarmente a scuola e che finirebbero in un centro... sistemati praticamente in brandine, in stanzioni comuni, nella totale promiscuità eccetera eccetera. Provate a pensare, ecco, questa è la soluzione che è stata prospettata tre giorni fa in prefettura dall'assessorato alla sicurezza Granelli, quindi, cioè, e anche sulla base di queste vicende qua, no, che uno dice, ma io, cioè, io con questa gente che cosa c'ho da fare? E qui veniamo a un punto, no? Cioè, che ruolo possiamo svolgere noi in questa città oggi nella crisi sociale abitativa più grave che Milano abbia mai visto da almeno 40 anni in questa parte, no? che oggi ci sono le case, ma le persone sono senza case. 40 anni fa non c'erano le case e le persone erano senza casa perché non c'erano le case, quindi si costruivano le case popolari perché non c'erano, c'era il lavoro ma non c'era la casa. Oggi abbiamo questa situazione paradossale che c'è la casa ma non c'è il lavoro, la gente non ha un reddito per permettersi o di comprare una casa o di pagare un affitto che, insomma, ci troviamo in questa situazione qua. Noi dobbiamo essere portatori di un nucleo di rivendicazioni sociali. Io credo che, tante volte anche Anita nei suoi interventi l'ha detto, noi siamo dentro, ovunque siamo nelle istituzioni, dobbiamo rappresentare dei referenti sociali. Quali sono i nostri referenti sociali? Ecco, questa è la domanda da pubbattire. Cioè, non solo i giovani, quindi, eh? Cioè, chiaro, anche i giovani, soprattutto i giovani, ma i nostri referenti sociali chi sono? E quindi la nostra missione politica qual è? Senza questa, come dire, chiara visione delle cose scelta di classe, no? Qualsiasi politica di alleanza scade nel praticismo, nell'alleantismo, nello scomparire in una compagine indistinta, no? E il rischio che io vedo, eh? Purtroppo, diciamoci le cose più in fondo come stanno, è che questo partito a Milano faccia questa fine qua. E non dobbiamo permettere questa cosa. Cioè, noi siamo realmente portatori di determinate istanze? Sì, come no. Dobbiamo sicuramente, su alcuni settori di intervento, rafforzare il nostro intervento. Quindi rivolgo ai giovani, soprattutto, questo appello di impegnarvi sulle tematiche della precarietà, del diritto allo studio, ma anche sul diritto alla casa, eccetera. Perché fanno parte tutte di un combinato di sposti, dobbiamo cercare di portare avanti in maniera organica, con una visione unitaria. ma assolutamente ne abbiamo bisogno di, anche nel senso comune, ripostruire la nostra identità. Cioè, chi sono i comunisti? Quelli che si battono perché, ah, lo dice di sei per uno, che è lo spazio, non venga sbomberato perché quelle famiglie abbiano una soluzione abitativa e perché quel progetto possa continuare in un altro palazzo, se quel palazzo deve ritornare nelle disponibilità della proprietà per essere venduto. Beh, chi sono i comunisti? Quelli che si battono perché ci sia una nuova finanza pubblica e sociale, partecipata anche da, come dire, terzi, ma in cui il ruolo del pubblico sia strategico, vuol dire, sia l'asset fondante. Invece noi ci troviamo di fronte, ormai, qualsiasi sia l'intervento a sti cazzo di progetti di financing, come si chiamano? Project financing. E poi quando usano l'inglese, no? Per metterci da proprio puntualmente quel posticino, no? Internazionalmente. E cosa succede però a questi progetti qua, no? Che il pubblico, poi va a ripianare le perdite. Certo. Puntualmente, ed è successo così con i grandi progetti della Tem, della Preveni, che il pubblico sta coprendo centinaia e centinaia di milioni di buco. Allora, sto cazzo di project financing, a che serve? A che serve? Quindi, noi abbiamo due cose fondamentali da dire. Cosa deve fare il Comune e il Comune di Milano ha un terreno importante, un terreno di euro, insomma, si possono fare delle cose notevoli. Quali sono le scelte strategiche sul cui investire e ritrovare anche la nostra dimensione politica e sociale di classe. Perché lì non ci sono solo i cosiddetti ambientalisti radicali, la borghesia progressista Milano, no? Che conta quel che conta oggi a livello di voto d'opinione. Ma ci sono larghi strati della popolazione che non sono più rappresentati da nessuno. Ma anche i 5 Stelle andranno a votare, anche i 5 Stelle stanno iniziando a scendere, va bene? Per tutta una serie di cagate che stanno combinando. Ed era ora. E quindi è da lì che dobbiamo andare. Quindi il ruolo fondamentale del nostro partito è proprio quello, di rivolgerci a questi strati e dire ci pensiamo noi a rappresentarli, e anzi unitevi a noi per portare avanti queste lotte comuni. Bravo. Luciana.